Benvenuti nel cuore di News Mix Up. Prima di svelarvi gli avvenimenti di oggi, chiediamo il vostro sostegno, un semplice gesto, un mi piace a questo video e l'iscrizione al nostro canale, oltre a rappresentare un segno di importanza immenso, ci aiuteranno a fornirvi, sette giorni su sette, informazioni sempre gratuite. Grazie di cuore. Stiamo seguendo l'avvicinarsi della finale del Grande Fratello, prevista per l'inizio di aprile, e non tutte le notizie sono positive per i concorrenti. Paolo e Letizia, la coppia che è nata all'interno del reality show, sembra che si trovi in una situazione piuttosto delicata. Un noto giornale di gossip ha riportato che i sondaggi esterni al programma non sono favorevoli per loro, generando preoccupazione tra i loro sostenitori. È un momento difficile per i fan di Paolo e Letizia, che si trovano a dover accettare una situazione inattesa e preoccupante. Mentre altri concorrenti godono di un sostegno maggiore e prospettive più rose, la situazione per il macellaio e la fotografa sembra complicarsi sempre di più. I sondaggi indicano che Beatrice è la favorita del pubblico, con un ampio margine del 57% delle preferenze, seguita da Simona al secondo posto con il 10%. Mentre Anita, Perla e Garibaldi sono appaiate al terzo posto con il 6%. Invece, Paolo e Letizia hanno raccolto solo l'1% delle preferenze, lo stesso risultato di Rosy Chin, posizionandosi tra gli ultimi. Questo dato mette seriamente in dubbio la loro permanenza nel programma e la possibilità di raggiungere la finale. Il futuro di Paolo e Letizia nella casa del grande fratello è incerto. E voi cosa ne pensate di questa coppia? Riusciranno, almeno uno dei due, ad arrivare in finale? Lasciate la vostra opinione nei commenti e ricordatevi di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati. Grazie di cuore.